Sono Riccardo Lombi, vengo da Perugia, sono un urologo di Perugia e sono venuto qui dal professor Antonini per vedere questa tecnica innovativa di impianto di tricomponente, che è una tecnica che lui ha standardizzato e ha reso molto semplice e mini-invasiva e che offre dei vantaggi sostanziali rispetto a altre tecniche di posizionamento di tricomponente. Il paziente non ha quasi mai infezioni della protesi, sono ridotte al minimo le complicanze ed è quindi una procedura sicuramente raccomandabile. Ringrazio Gabriele Antonini perché mi ha convinto che questo tipo di approccio sia l'approccio ideale. Semplice e apparentemente semplice e innovativa e ben standardizzata, perché questo è l'obiettivo di questo tipo di impianti, che è un intervento molto tecnico, ma che va fatto con i due criteri.